Ragazzacci è arrivato, finalmente il fumetto di Buffy, stagione 10, è arrivato, edito da Saltapress. Sentite che buon odore, stupendo, la Saltapress ha fatto un lavoro enorme, della madonna, però ecco, volevo anche farvi vedere quanto è spesso, 29,90€ per cotante pagine, quindi penso che la recensione di questa stagione, o quantomeno del primo numero, non sarà così di veloce uscita, ma questo ci dà un vantaggio perché posso finalmente parlare con voi della stagione 9, 5 numeri di cui parlerò ora. Wabalaba dab dab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Buffy, l'ammazzo vampiri, il Buffy verso. Come promesso sto facendo un recap delle stagioni a fumetti precedenti a quella che è appena uscita da Saltapress, proprio perché per chi di voi non avesse potuto prendere questi fumetti quando uscirono ai tempi dalle edizioni BD e ora introvabili, possono quantomeno essere aggiornati su quello che è successo, ciò nonostante, come dicevo, la Saltapress ha fatto un ottimo lavoro, qua c'è un piccolo riassunto delle stagioni che potreste essere perse, ma io comunque continuo in perterrito nella mia strada. Oggi parliamo della stagione 9, mancano altri due video, uno in cui parlerò dello spin-off Angel e Fate, che si svolge in contemporanea con la stagione 9, sempre di cinque numeri, e poi farò un altro video in cui parlerò degli one shot di Willow e di Spike. La stagione 9, fondamentalmente, come già avevo anticipato nel video sulla stagione 8, è molto più contenuta. Nella stagione 8 Joss Whedon ha voluto strafare, ha voluto darci un sacco di effetti speciali, c'era un senso di grandezza che si respirava in ogni pagina, Buffy conduceva un esercito di cacciatrici, abitava in un castello, c'erano mostri giganti, a un certo punto Buffy e Angel si sono messi a volare da tanto potere che avevano accumulato. Qua invece si ritorna a una dimensione molto più easy, molto più da telefilm, molto più contenuta, proprio per dare anche al lettore questo senso di continuità con le stagioni in live action, quindi con le stagioni della serie TV. La cosa è molto bella. Il pretesto narrativo è che alla fine della stagione 8 è stato distrutto un seme, che era una sorta di, chiamiamolo buco nero, forse buco luminoso, che travasava un po' la magia da altre dimensioni e la faceva confluire appieno negli esseri dotati di magia, per esempio non tanto esseri come la cacciatrice che hanno una forza mistica interna, ma esseri come le streghe, come Willow, che invece pescano appunto dalla fisica, da quello che c'è nell'aria per gestire la propria magia. Persone come Will e un sacco di persone, un sacco di demoni sono rimasti senza magia e tutti incolpano Buffy per questa cosa, per questa distruzione del seme. Buffy però lo aveva distrutto perché altrimenti avrebbe, questo seme avrebbe aperto le porte di un'altra dimensione, alla dimensione Twilight, alla dimensione che Buffy e Angel stessi avevano generato, copulando in preda a questa possessione di questa entità Twilight, che esattamente come è successo nella quarta stagione di Angel con Jasmine, voleva essere generata, voleva essere creata, questa nuova realtà avrebbe inglobato la Terra, quindi Buffy è stata costretta a distruggere il seme. Purtroppo questo non è accaduto senza la perdita di vittime. Angel, totalmente posseduto da Twilight, ha ucciso Rupert Jais, ma questo poi lo affronteremo nello spin-off dedicato a Angel e Buffy. Qua invece ci concentriamo su Buffy che cerca di riprendere in mano la sua vita dopo tutto quello che è successo. Buffy ora non vive più in Scozia, vive a San Francisco, una località perfetta secondo me per questa stagione. A San Francisco vive in un appartamento con due inquilini, uno ricorda vagamente Osma, non è lui, e un'altra ragazza invece che sono assolutamente ignari di tutta questa faccenda, sono assolutamente normali o così pare. Sempre a San Francisco anche Xander e Don convivono insieme in un appartamento dove cercano di vivere una vita normale dopo tutti gli eventi delle passate stagioni, quindi cercano un po' di tirarsi fuori dalla Scooby Gang. In questa stagione vediamo proprio la Scooby Gang che fondamentalmente non esiste più, la Scooby Gang è Buffy e poi c'è Xander e Don, gli danno una mano ma dal loro appartamento non entrano mai in azione. Willow che se ne va molto presto da questa stagione, se ne va per cercare la sua strada per salvare la magia e lo vedremo nel one shot Willow dedicato, poi ovviamente quando lo girerò vi metterò qua nella scheda e qua in descrizione. Questo perché Willow scopre quasi subito all'inizio che tra i vari sogni da cacciatrice che fa Buffy vede una possibilità di salvare la magia se Willow intraprenderà un viaggio con la falce, la famosa falce che abbiamo scoperto nella stagione 7 di Buffy l'ammazzavampiri. Quindi Willow a un certo punto prenderà la falce e la porterà via nel suo viaggio. Quindi Willow totalmente assente fino alla fine, Buffy è da sola a tutti gli effetti ma piano pianino incontrerà dei comprimari che si aggiungeranno alla nuova squadra. Quindi personaggi inventati di sana pianta che però non ci fanno assolutamente rimpiangere quelli in carne e ossa. Il primo che incontriamo è Severin, un ragazzo che dopo la distruzione del seme, innanzitutto lui e la sua ragazza Claire si erano un po' invasati per questa cultura di essere vampiri, un po' come era successo nella stagione 2 alla ragazza che poi ha preso il nome di Anne, la ragazza che poi è diventata anche amica di Gunn, che aiuta tutti i ragazzi di Los Angeles, tutti i vari senza tetto, tutti i ragazzi scappati di casa. Nella scorsa vita di Anne lei era una seguace, una fanatica dei vampiri, voleva essere vampirizzata, senza sapere che il vampirismo consiste nell'essere ammazzati e essere posseduti da un demone che indossa la tua faccia. Quindi più o meno è successa questa cosa a Claire e a Severin. Dei due era Claire la ragazza che voleva essere vampirizzata, Severin non era molto convinto a pieno titolo. Cosa è successo? Innanzitutto che questa ondata di popolarità dei vampiri è dovuta al fatto che Harmony, e questo lo abbiamo visto però nella stagione 8, lo abbiamo visto anche in Angel, Harmony ha a tutti gli effetti ha sdoganato l'esistenza dei vampiri, ha fatto sapere a tutti che i vampiri esistono, che essere vampiri è una cosa cool, un po' come generando una realtà un po' simile a quella di True Blood, dove i vampiri e gli esseri umani convivono. Anche se qua, nella realtà di Joss Whedon, noi sappiamo benissimo che c'è poco da convivere con i vampiri, che sono fondamentalmente dei demoni assettati di sangue. Oltre a questo, si aggiunge il fatto che una volta che il seme è stato distrutto, i vampiri che vengono vampirizzati dopo la distruzione del seme, quindi dopo la perdita della magia dal pianeta Terra, non sono proprio come i vampiri che c'erano prima. Purtroppo Severin lo scopre a sue spese notando che la sua ragazza Claire è stata trasformata in una bestia senza senno, una sorta di ubervamp che abbiamo visto nella settima stagione, fondamentalmente. Questi nuovi vampiri bestiali vengono soprannominati da Xander gli zompiri, perché non hanno una vera coscienza, al di là dell'anima che la perdono, ma perdono anche proprio la lucidità, il cervello che aveva l'essere umano di cui sono ospiti. Severin, per difendersi dall'attacco della sua ormai defunta ex, la ragazza Claire, diventata uno zompiro, si accorge, afferrandole la testa per cercare di non essere morso, che nella disperazione in lui nasce un potere, il potere di assorbire tutto ciò che c'è di magico nelle creature magiche, al punto che riesce a far tornare Claire un essere umano, quindi la devampirizza, ma chiaramente devampirizzandola ottiene una ragazza morta. Allo stesso tempo a San Francisco succedono un sacco di morti inspiegabili, di persone ritrovate cadaveri che non hanno documenti d'identità, e un poliziotto molto zelante, chi si chiama Dowling, riesce finalmente ad andare a fondo alla questione, scopre che questi cadaveri non sono altro che persone scomparse 50 anni prima, 60 anni prima, sono tutti vampiri che sono stati devampirizzati da Severin, che appunto a differenza di Buffy che li polverizza lascia in giro delle tracce. La prima indiziata è Buffy, per qualche ragione, perché comunque scoprono che è un'ammazza vampiri, e questo porta la conoscenza a Dowling dell'esistenza della cacciatrice di Buffy e di tutto questo sottobosco, questo sottomondo di cui inizialmente è inorridito, ma di cui poi vuole fare parte per contribuire, vuole creare una task force per sconfiggere gli zampiri che sono fuori controllo. Invece questo ragazzo, Severin, che inizialmente sembra un alleato perché vuole aiutare Buffy a prosciugare i vampiri dalla propria magia malvagia, in realtà si scopre essere semplicemente assetato di potere, lui vuole togliere la magia persino da Buffy e da tutte le creature magiche, il suo scopo è avere il più potere possibile, ma poi vi dico perché. Quindi, Severin volta le spalle a Buffy, si volge contro di lei per i suoi piani malvagi, scopriamo che Severin è alleato di una cacciatrice ribelle, non sto parlando di Fate, che invece ha il suo spin-off insieme a Angel, ma di una cacciatrice molto più pericolosa. Questa cacciatrice si chiama Simone e ci fa rimpiangere la follia di Fate, è davvero fuori di testa, usa le armi come le userebbe il ponitore, non si fa problemi ad ammazzare per i propri scopi, lei vuole diventare a tutti gli effetti più forte di Buffy Summers, il suo scopo è uccidere Buffy Summers perché lei non vuole essere una cacciatrice, lei vuole scegliere di poter essere potente e fare quello che vuole, quindi non vuole necessariamente questa missione di sconfiggere il male ai vampiri, vuole essere semplicemente potente e ce l'ha a morte con Buffy Summers. Simone e Severin hanno un interesse comune, ovvero vogliono in un certo senso ripristinare i vampiri come erano prima tornando indietro nel tempo in qualche modo, poi ci arriviamo. Severin vuole tornare indietro nel tempo in modo che la sua ragazza non diventasse mai un vampiro e quindi sopravvivesse, quindi fosse ancora viva, mentre Simone vuole tornare a prima che i vampiri fossero degli zompiri perché vuole farsi vampirizzare anche lei e diventare un ibrido vampiro-cacciatrice per avere il potere di entrambi queste forze ed essere quindi più forte di Buffy per poterla uccidere, per poterla sconfiggere. Severin e Simone arrivano addirittura a scoprire qual è il demone che ha il potere di viaggiare attraverso lo spazio-tempo e il loro obiettivo è prosciugare quel demone per gestire il suo potere. Questo demone è niente po' di meno che Illyria. Illyria torna dalla serie Angel che era interpretata appunto da Amy Yasbeck l'involucro diciamo il guscio di Fred posseduto da questo antico demone e quindi anche un po' deprivato del suo pieno potere dopo la distruzione del seme si è alleata con alcune altre entità demoni o altre entità simili tra cui ritroviamo Dofrin l'ex boss di Anya il demone della vendetta questo insieme di creature e di demoni viene chiamato il consiglio che non ha nulla a che fare con il consiglio degli asservatori ma è fondamentalmente una congrega di esseri che vogliono in qualche modo ripristinare la magia e proteggere quel poco di magia che è rimasto vi ricordate la quinta stagione di Angel è a Hole in the World un buco nel mondo quando scopriamo che a Londra e in Nuova Zelanda c'è un buco che attraversa tutta la terra e che contiene tutti i sepolcri tutte le bare degli antichi demoni da qui hanno appunto riesumato la tomba di Illyria per farla risorgere appunto nella stagione 5 qua tra i vari demoni risiede anche l'ultimo demone che è stato scacciato dalla terra dai primi omini dai primi uomini e si sa nell'universo di Batti che l'ultimo demone che è stato scacciato dalla terra è stato poi il demone che ha generato il primo vampiro il primo Uber Vamp questo demone scopriamo che si chiama Malhocker e l'obiettivo di Simon è a farsi vampirizzare da Malhocker stesso per ottenere il potere più puro possibile quindi nel finale di stagione fondamentalmente abbiamo questo consiglio che cerca di proteggere l'entrata di Londra e della Nuova Zelanda per impedire a Simon e Severin di entrare e assorbire tutto il potere possibile per quanto riguarda Severin oltre a quello di Illyria e per quanto riguarda Simon evitare di arrivare lì e risvegliare Malhocker in tutto questo c'è anche un'altra creatura nata dalla magia che sta lentamente scomparendo mi riferisco a Dawn la sorellina di Buffy inizia a risentire della perdita della magia da questo mondo e inizia lentamente a scomparire la vediamo diventare prima sempre più pallida cadaverica poi diventare quasi semitrasparente fino a perdere la memoria e non riconoscere le persone che ha intorno nemmeno Xander Xander disperato che inizia a avere anche problemi di gestione della rabbia non so se questo è un riferimento al fatto che l'attore stesso ha avuto nella sua vita privata molti problemi di questo tipo fatto sta che a una certa Xander si allea con Simon e Severin Xander è arrabbiato come anche Will è arrabbiata con Buffy perché hanno distrutto il seme o quantomeno perché è stata colpa loro se l'hanno dovuto distruggere perché è stata Buffy a creare Twilight quindi invece di fondamentalmente credere in Buffy ha preferito allearsi con Severin e Simon perché crede anche lui che se Severin riuscisse a tornare indietro prima che il seme fosse distrutto Dawn non scomparirebbe nel frattempo in uno scontro prima della della season finale Severin riesce ad assorbire tutto il potere di Illyria quindi vedremo questo Severin con i capelli blu gli occhi azzurri esattamente come Illyria ciò nonostante Illyria non rimane un guscio vuoto ovvero non rimane il cadavere di Fred ma rimane con l'aspetto di Fred ma è ancora viva è ancora deambulante in qualche modo riesce a tenere testa a Severin non ho ancora nominato Spike ma è molto presente in questa stagione e aiuta Buffy dall'inizio alla fine scopriamo che è ancora perdutamente innamorato di lei nel caso avessimo dubbi e che Dolin il poliziotto lo nota Dolin si lascia scappare di fronte a Buffy che si è accorto che Spike è ancora innamorato di Buffy e quando Buffy e Spike cercano di affrontare questo argomento Spike capisce che se ne deve andare quindi se ne va nel suo one shot in cui parleremo in un altro video però quantomeno è abbastanza presente all'inizio e alla fine non c'è solo nella parte centrale in cui appunto va nel suo one shot all'inizio appunto fa l'amico l'amico innamorato l'amico della friendzone per Buffy come aveva fatto fino alla sesta stagione però in modo un po' più consapevole un po' più tranquillo perché c'è già passato in una relazione con Buffy e torna alla fine per stare vicino a Dawn perché Xander vuole è stanco di osservare vuole andare in azione quindi Xander e Buffy sono insieme a Illyria e al Consiglio a Londra e vengono raggiunti anche da Willow che ha ritrovato un piccolo seme rosso nel suo viaggio e vuole portarlo all'interno del centro della Terra per cercare di farlo germogliare quindi in un certo senso cerca di far rinascere la magia Willow cercava un nuovo seme ma in realtà scopre che questo seme rosso è dentro di lei e in sostanza è lei che farà nascere della nuova magia questo seme è nuovo è appena rinato non è un seme che ha trovato in giro ma che ha generato lei stessa ma scopre che non è abbastanza potente è un seme che per germogliare ha bisogno di millenni e non abbiamo millenni perché Dawn sta scomparendo e quindi pensa a un piano chiede a Severin dopo che è stato convinto ovviamente con dei sonori discorsi anche da Illyria che gli spiega che Illyria stessa al massimo del suo potere non è mai riuscita a viaggiare in tempo per modificare la sua storia di conseguenza Severin non riuscirebbe morirebbe nel tentativo e la sua ragazza resterebbe morta l'unica speranza che ha Severin per incanalare tutto questo potere è quella quanto meno di salvare la magia di salvare Dawn e quindi riesce Illyria riesce a convincere Severin a far confluire tutto il potere che ha assorbito in tutta questa stagione oltre a quello di Illyria a farlo confluire nel nuovo seme creato da Willow il doppio gioco di Xander dura poco lo dice apertamente a Buffy che l'ha tradita e dopo diciamo un battibecco tipico di queste situazioni guidoniane diciamo che accantonano un attimo le divergenze per risolvere il problema più urgente che è appunto il fatto che Malokar il primo anzi l'ultimo demone che ha generato il primo vampiro è stato liberato da Simon Simon è diventata un super vampiro e sta affrontando Buffy quindi abbiamo questo doppio scontro questo doppio scontro Simon e Buffy si stanno ammazzando dei botte Xander cerca di far uscire tutti dal buco nel mondo tutti quelli sopravvissuti a Malokar che stanno cercando di arginare Malokar tutti quelli del consiglio che stanno cercando di fuggire ne sono rimasti pochi credo sia rimasto solo Xander e Doffrin tutti gli altri sono stati mangiati da Malokar e mentre Willow e Illyria aiutano Severin a far confluire tutta la magia nel nuovo seme ma allo stesso tempo lo stanno trattenendo perché questo scambio di magia farebbe piazza pulita di tutte le persone all'interno del buco quindi incenerirebbe tutti non solo Malokar ma anche Xander Buffy Simon e Doffrin quindi lo stanno aiutando a trattenersi fino all'ultimo in modo che Buffy Xander e Doffrin e Willow stessa riescano a scappare Illyria invece resta con Severin decidendo di sacrificare se stessa per la nascita della nuova magia quindi purtroppo un personaggio interessante come Illyria lo perdiamo sparisce il discorso che Illyria ha fatto a Severin per convincerlo a lasciare andare la sua ragazza è un flashback sulla sua esperienza che ha avuto con Wesley lo ha paragonato Severin al fatto che Wesley si era ossessionato di far tornare indietro Fred nel mondo dei vivi e che l'unico momento in cui ha trovato la pace è quando l'ha lasciata andare Severin dice a Illyria ma come ha fatto a convivere con una scelta del genere Illyria risponde non lo ha fatto non ha assolutamente convissuto con una scelta del genere tant'è che Wesley è morto ha trovato la pace solo quando è morto e quindi Severin capisce che anche lui deve morire per essere in pace con la morte della sua fidanzata Claire e generare la nuova magia l'esperimento ovviamente riesce in tutto questo Simone viene polverizzata da Buffy nello scontro finale che sopravvive esce per ultima dal buco nel mondo scopriamo che il nuovo seme ha cambiato le regole della magia come lo scopriamo l'ultima ragazza vampirizzata dopo la creazione del nuovo seme è diversa dagli zompiri ha di nuovo una coscienza e come arriva la luce del sole tutti gli zompiri vengono inceneriti tranne questa nuova ragazza quindi questa nuova ragazza è consapevole esattamente come Spike e Angel e tutti gli altri vampiri ma è resistente al sole e si trasforma in un pipistrello esattamente come fece Dracula nella quinta stagione quindi i nuovi vampiri avranno nuovi poteri badate bene i nuovi vampiri avranno nuovi poteri perché se gli zompiri sono stati bruciati presumo che anche Spike e Angel seguano le vecchie regole ma lo scopriremo nella decima stagione in tutto questo vorrei anche nominare due alleati che sono stati fondamentali ma non li ho raccontati per cercare di far fruire al meglio questa storia questi due alleati sono Billy un ragazzo che praticamente ha avuto una storia one shot nel numero 3 di questa stagione un ragazzo che inizia semplicemente a combattere i vampiri un ragazzo che viene bullizzato abita nel centro dell'America degli Stati Uniti viene bullizzato per il suo orientamento sessuale incontra un ragazzo che invece lo sostiene e gli fa da osservatore e diventa un cacciatore di vampiri un po' come è stato Gunn a suo tempo vediamo che questo ragazzo si trasferisce a San Francisco e viene accolto da Buffy e da Doling e diventano una sorta di nuova Scooby Gang questo nuovo trio composto appunto da Buffy Doling il poliziotto e Billy sarà la nuova o quantomeno è stata la nuova Scooby Gang nella stagione 9 presumo continuerà anche nella stagione 10 però non ne sono sicuro lo scopriremo insieme l'altro alleato invece alleato fino a un certo punto è il demone Ko scritto K-O-H che è stato liberato grazie alla distruzione del seme quindi in un certo senso ha un debito con Buffy però ha un modo tutto suo di gestire l'onore quindi a volte gli volta la gabbana e poi ritorna tranquillamente un personaggio molto interessante che poi si allea con il consiglio e con Illyria ed è un ottimo combattente spero che lo rivedremo ancora in futuro perché adesso che non c'è neanche più bisogno di tutto questo make up per disegnare un demone perché sono tutti disegni spero che si vedano molti personaggi interessanti come Ko bene ragazzi io come sempre ho cercato di stringare il più possibile ma il video è lunghissimo parliamo comunque di tutta cotesta roba ho anche cercato di non parlare dei filler che comunque sono interessanti spero che vi abbia un po' soddisfatto adesso leggerò proprio aspetterò a leggere la stagione 10 di Buffy per voi leggerò prima di nuovo Angel e Fate e i due spin off e farò i video e poi leggerò la stagione 10 di Buffy e ne parleremo insieme io vi ringrazio per avermi dato fiducia per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico anche buone feste ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti